Scoperto una piantagione di marijuana nel Palermitano, un'attività illecita sempre più diffusa, dato messi in risalto dai numerosi sequestri da parte dei militari dell'arma del Comando Provinciale. I carabinieri, durante un servizio antidroga a Bolognetta, hanno tratto in arresto per il reato di coltivazione, detenzione, fini di spaccio e furto aggravato quattro uomini palermitani già noti alle forze dell'ordine. Nel corso delle attività, i militari dell'arma hanno sorpreso i quattro presso una villetta nella disponibilità di uno degli arrestati, all'interno della quale avevano allestito, al pieno terra, una serra per la coltivazione indoor di marijuana, rinvenendo 250 piante. La serra era provvista di materiale fertilizzante, lampade, alogene, ventilatori, impianti di condizionamento ed aspirazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della diffusione e distribuzione intervenuto sul posto. Quanto rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro e lo stupefacente è stato campionato per le successive analisi a causa del laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Palermo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida per il Tribunale di Termini Merese.